un incontro di lavoro per un progetto si è trasformato in un vero e proprio incubo per un anziano di 83 anni a torino dove è stato picchiato minacciato e derubato di oltre tre orologi preziosi tra cui due rolex dal valore di oltre 74 mila euro il brutale episodio ha luogo il 15 settembre scorso e recentemente i carabinieri hanno arrestato tre individui su mandato di custodia cautelare della procura di torino tra di essi il finto amico locale un cinquantenne rivelatosi basista della banda insieme a un ragazzo di 21 anni una donna di 27 entrambi residenti a milano i tre sono ora accusati di lesioni e rapina aggravata l'anziano ha presentato denuncia e dopo mesi di indagini i carabinieri hanno svelato il presunto coinvolgimento della banda in altri crimini simili nella zona le forze dell'ordine stanno continuando a indagare su possibili ulteriori attività criminali del gruppo